Questo è il passaggio a livello di Via Vela a Carbonara e qui per due sere consecutive un gruppo di teppistelli ha lanciato sassi contro i treni delle ferrovie sud-est. Per fortuna nessuna conseguenza per i passeggeri e il personale, solo piccoli danni per i mezzi. Questa è la stazione di Bari sud-est, qui ci sono i treni. Negli ultimi due giorni ci sono stati due episodi, sempre lo stesso passaggio a livello, sassi lanciati contro i nuovi treni. Fortunatamente non ci sono stati grandi danni. No, effettivamente abbiamo avuto soltanto una leggera scalfittura, un vetro, sullo strato esterno, per cui il mezzo sta anche regolarmente circolando. In precedenza nel bersaglio dei vandali era finito un altro convoglio nuovo, ora in officina, ma non per il finestrino rotto, quanto per altri interventi di manutenzione. Era un mezzo fermo che aveva un vetro rotto, ma presso una ditta esterna per altre operazioni di manutenzione, alla carrozzeria. A conti fatti le sud-est riescono a garantire il servizio malgrado i teppisti, ma i danni comunque ci sono. Ci costa la riparazione. Riuscite comunque a far viaggiare i treni? Sì, anche per queste cose, specialmente anche per riparabrezza in cabina, abbiamo delle scorte abbastanza consistenti, per cui si riesce a effettuare la riparazione molto presto, anche in giornata a volte. Grazie. Grazie.